Venite, venite a vedere lo spettacolo di Maciste. Maciste per la prima volta a Porta Palazzo. Grazie, 150 kg. Pieco le sbarre. Venite, spezzo le catene. Alza il finanziere. Di nuovo, spezzo le catene. Non so quanto, va bene? Noi lavoro, noi lavoro niente. Pieco le sbarre. Lascia noi lavoro, per favore. Un euro, un euro. Buongiorno. Maciste a Porta Palazzo. Vai via, vai via. Date un contributo allo spettacolo. Contributo allo spettacolo, prego. Date un contributo. Buongiorno. Bazzti Pouzie. Buongiorno. Bazzti Pouzie. Buongiorno. Lui. Buongiorno. Diagnòlo. Buongiorno. Cari. Buongiorno. Buongiorno. Grazie.